buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino su fano tv canale 17 occhio i giornali con il commento alla stampa del giorno vediamo il santo di oggi e poi il tempo che cambia in questa settimana che inizia San Giobbe il sole è sorto alle 5.50 e tramonterà alle 20.55 dicevamo cambia tutto inizio settimana torna il maltempo con temporali e nubi fragi metà maggio Italia insidiata da rovescio e temporali questa è la copertina di trebimeteo.com e allora andiamo a vedere il tempo per la giornata di oggi intanto per oggi non c'è molto da segnalare vedete nelle marche questa è la fotografia del pomeriggio la sera andiamo a domani martedì martedì diciamo che il cambiamento arriva dal pomeriggio con la pioggia che interesserà soprattutto la collina e l'entroterra i primi temporali con soprattutto sull'Anconetano, Fermano e Piceno nel provincia di Pesurbino invece un po' di pioggia vediamo la giornata di mercoledì mercoledì sarà alternata divisa in due mattino con nubi e sole mentre il pomeriggio cambia vedete arrivano i temporali e sarà così un po' per tutta la settimana allora pandemia da una parte la vedremo tra poco però c'è la cronaca molta cronaca con i giornali che questa mattina escono con gli inserti sportivi c'è ancora un po' di sport un po' di cose da disputare in campo calcistico non solo ma andiamo a vedere la prima pagina del Corriere Adriatico di Pesaro pronti ma mancano i vaccini, i medici di famiglia chiedono certezze sulle prossime forniture soli o in equip questo non è il problema nelle marche ricoveri nei parametri non accadeva da mesi nuove misure oggi la regione decide soprattutto per i comuni un po' a rischio centro pagina però il Corriere Adriatico pubblica la fotografia di una manifestazione una manifestazione che si è tenuta in questo fine settimana sulla ciclovia una manifestazione di sensibilizzazione il progetto lo facciamo noi dicono dice insomma quelli del comune la pista del metauro mentre qui di spalla un'intervista un'intervista a Massimo Maggi segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale che parla soprattutto di quei sintomi che possono durare anche sei mesi in quei soggetti che hanno già preso il Covid la cronaca ad Acqualagna scivola sul sentiero e si rompe la caviglia escursionista tratto in salvo telefono viola incalza il sindaco di Fano Massimo Seri revochi il TSO si parla della vicenda di quel diciottenne che è stato perlevato insomma portato al pronto soccorso da scuola e poi direttamente in psichiatria e poi quello allo smalto due giovani pesaresi picchiati da venti fanesi beh in realtà qui non è così non sono venti fanesi poi pare che insomma siano tutti extracomunitari però non cambia la sostanza il pilota Tonino Benelli la leggenda diventa un film partono oggi le riprese all'interno della Casa della Famiglia pellicola diretta da Marta Minucci tra gli attori c'è anche Marco Re poi lo sport la VL a Brescia conclude la stagione il resto del Carlino edizione pesarese TSO dimesso lo studente per lui lezioni in daddi il ragazzo è tornato a casa la mamma in lacrime ma non si placano le polemiche è prevista una manifestazione per questa mattina sotto la scuola Olivetti di Fano poi la cronaca con la fotonotizia di un diciottenne preso di mira da una gang lui allo smalto giubbotte pestato l'amico che lo difende ma non è un'aggressione omofoba anche perché tutti e due si sono dichiarati i due ragazzi aggrediti si sono dichiarati eterosessuali grave malore per Vittorio Panzieri ricoverato all'ospedale di Fano 48 ore per sperare l'ex presidente Aspes era ad un pranzo dei Lions se poi domani l'addio a Manuel Berti motociclista giovanissimo morto sulla strada il messaggio della fidanzata sotto sfila sui binari la carovana per la ciclovia del Metauro la protesta come abbiamo visto a Fano poi ancora cronaca un'allevatrice a Mercatino Conca allevatrice di Pitbull aggredita dai suoi cani e la guerra al Covid over 60 chi ha più di 60 anni insomma si parte oggi i vaccini ai primi 700 arrivano le dosi di Pfizer e poi il calcio stramaccioni vis ora mi gioco la Juventus il difensore pronto per l'Under 23 bianconera tocca a me dimostrare quanto valgo e poi basket VL in campo ma è con Repegio l'allenatore la partita vera i biancorossi chiudono stasera Brescia il futuro del tecnico tiene banco e gli scenari possibili il Carlino di Macerata invece il sorriso di frate Mario Tolentino alla via il processo di beatificazione di questo frate amico della gente torniamo sulle pagine interne andiamo sulle pagine interne andiamo a Fano Rocca Malatestiana sabato sabato intorno alle 19.30 questo è lo scenario siamo nel pieno centro storico la Rocca Malatestiana è un luogo un po' abbandonato a se stesso diciamoci la verità e quindi è lì che si è svolta questa aggressione che si è svolta questa aggressione due giovani pesaresi aggrediti a Fano titola il Corriere Adriatico oggi il virgolettato ovvero sono le cose che sono state dette in particolare da qualcuno che faceva parte di questa banda di aggressori allo smalto diamo fuoco alla mano shock alla Rocca Malatestiana picchiati da una ventina di ragazzi un pretesto poi calci e pugni scrive già Luca Murgia un'aggressione brutale in 20 contro 2 un 18enne e un 17enne entrambi di Pesero picchiati selvaggiamente sabato sera al 19.30 nel giardino della Rocca Malatestiana di Fano ad aver avuto la peggio il minorenne e quindi il 17enne frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni un dito rotto e varie lesioni alla testa perché la banda dopo averlo spinto a terra si è canito con calci e pugni e schiaffi mirati per almeno 15 minuti il padre anzi sempre da questo articolo siamo qua ecco erano una ventina di età compresa tra i 15 e i 22 anni raccontano i due ragazzi mai visti prima un'aggressione omofoba rispondono siamo tutti e due etero cercavano solo un pretesto e l'hanno trovato nel mio ciuffo biondo e nel mio smalto prima hanno usato la scusa di chiederci la sigaretta poi si sono accaniti su di me il padre di questo 17enne il padre del 17enne dice è stata una vile barbara aggressione si porteranno dietro un carico di dolore riferendosi al figlio e all'amico capiranno che le diversità sono bellissime anche a partire dal modo di vestirsi sono convinto che la polizia di Fano farà un ottimo lavoro si sono subito presi cura dei nostri ragazzi che erano sconvolti il resto del Carlino invece pubblica una fotografia anzi due fotografie del luogo del momento in cui vedete c'è un'ambulanza del 118 una macchina dei carabinieri della polizia e poi c'è una fotografia con il particolare io l'ho cerchiata di rosso il particolare di questa mano di questo ragazzo che ha lo smalto lo smalto di colore nero l'articolo è di Roberto Damiani il titolo aggredito perché ha lo smalto sulle unghie pestaggio del branco contro due ragazzi è successo sabato sera alla Rocca malatestiana di Fano una quindicina di giovani stranieri si sono accaniti contro i pesaresi calci e pugni in faccia al 17enne che cercava di proteggere l'amico l'altro preso di mira per il suo look setto nasale mano fratturati quindi praticamente il ragazzino che aveva questo ciuffo di colore bianco con lo smalto è stato risparmiato lui che tra l'altro racconta Damiani è un po' abituato ad avere in questi anni per il look che ha deciso di portare liberamente questi attacchi solo verbali con vari epiteti eccetera eccetera però fin lì e quindi forse sapeva anche come gestire un po' la situazione una situazione difficile 15-20 ragazzi che ti arrivano a un palmo dal naso che cominciano ad aggredirti verbalmente aspettano il pretesto aspettano e quindi lui giustamente cosa ha fatto ha tenuto sempre racconta lui la testa bassa non ha mai guardato in faccia ai suoi aggressori questo per non dargli il pretesto perché basta un'occhiata per far scattare il putiferio e quindi lui si è in qualche modo tra virgolette salvato chi ha avuto la peggio invece l'amico che ha tentato di difendere il compagno e che è stato appunto aggredito 15 minuti raccontano a terra con calci e pugni lui a un certo punto racconterà al giornale dirà io ero preparato a morire perché non sentivo neanche più niente quindi stava perdendo un po' conoscenza il gruppo formato andiamo di nuovo sul giornale eccolo vediamo qua il gruppo formato da giovanissime extracomunitari albanesi e marocchini io non li ho nemmeno guardati in faccia se non all'inizio poi ho capito di non doverli guardare per non sfidarli e ho tenuto sempre la testa bassa per non dargli appunto dei pretesti tutto questo è successo appena erano arrivati a Fano si sono sentiti chiamare da lontano da questo gruppo di una quindicina di ragazzi mai visti prima e lui ribadisce qua lo ribadisce anche qui erano tutti extracomunitari albanesi e marocchini mi prendono in giro per il ciuffo bianco ma quando arrivano vicino e vedono le mie unghie con lo smalto nero 5 o 6 di loro mi bloccano uno prende un accendino e cerca di dar fuoco alle dita per togliermi lo smalto e il padre del ragazzino 17enne che è finito all'ospedale con 30 giorni di prognosi dice mio figlio massacrato per difendere l'amico a Fano poi c'è l'altra vicenda invece quella che riguarda il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di quel 18enne che si è rappresentato in classe per l'ennesima volta senza mascherina questo ragazzo di 18 anni frequenta l'Olivetti a Fano si è rappresentato a scuola nei giorni scorsi protestando contro il sistema in sostanza non indossando la mascherina all'inizio si parlava che si era legato al banco insomma per protestare eccetera eccetera per due ore hanno tentato di convincerlo a mettersi la mascherina eccetera eccetera lui non ne ha voluto sapere così sono stati chiamati le forze dell'ordine è arrivata anche un'ambulanza è stato portato all'ospedale pronto soccorso e lì hanno deciso a questo 18enne di calmarlo e di portarlo in psichiatria ora questo fatto ha scatenato un putiferio sia a livello nazionale che a livello locale ma più nazionale a dire il vero con da una parte i medici che hanno deciso appunto questo trattamento sanitario obbligatorio e il resto del mondo che invece ha giudicato eccessivo questo appunto trattamento la politica si è inserita con il senatore Siri della Lega che dice oggi sul giornale qualcuno ne risponderà e intanto questa mattina dalle 10 ci sarà un presidio non stop davanti all'Olivetti qualcuno deve assumersi le responsabilità di quello che è accaduto che è veramente molto grave per quello che ho verificato dice il senatore sentendo tutte le parti in causa il ragazzo compreso non c'era alcun bisogno di mortificare questo giovane chiudendolo in psichiatria questo ha dichiarato in una diretta Facebook il senatore Armando Seri dopo la visita fatta sabato scorso al 18enne sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio per gli sviluppi della sua protesta contro l'obbligatorietà della mascherina a scuola poi telefono viola ecco telefono viola invece è un'associazione un ente contro gli abusi psichiatrici in calza il sindaco di Fano che dice deve revocare subito quel TSO l'ente contro gli abusi psichiatrici Sappella Marche Nord dal Tribunale del Ministero però dal Carlino si apprende che il 18enne è stato già dimesso anzitempo doveva stare sette giorni in psichiatria questo era stato stabilito in realtà ieri giorno della festa della mamma è stato fatto uscire e la mamma appunto racconta oggi è il più bel regalo che mi potessero fare in questo giorno della festa della mamma sono felice e il 18enne ha commentato questa è la fine di un incubo poi la corsa a casa con i telefoni staccati e c'erano questa cosa è avvenuta ieri intorno alle 13 davanti al reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia dove appunto il 18enne ha potuto riabbracciare tra le lacrime sia il padre che la madre una vicenda che non finisce qui per l'avvocato di questo ragazzo che è l'avvocato Isabella Giampaoli figlia dell'ex presidente della regione Marche Rodolfo Giampaoli la quale aggiunge avevo fatto opposizione contro il ricovero coatto ma credo che siano stati gli stessi sanitari a decidere che il ragazzo dovesse uscire in anticipo perché non c'erano le condizioni tra l'altro è stato proprio il 18enne a dare l'incarico direttamente perché poi essendo maggiore non lo può fare direttamente a questo avvocato a chiamare infatti è stato lo stesso ragazzo perché è lui dice l'avvocato Giampaoli che mi ha contattato visto che è maggiorenne anche perché io mi occupo di queste disposizioni anti-covid e difendo anche i sanitari che sono contrari alla vaccinazione quindi vedete tutt'altro che uno sprovveduto insomma un ragazzo che ha la testa sulle spalle evidentemente sa quello che fa forse un po' in maniera esagerata però insomma è uno che sa esattamente quello che vuole eccetera quindi vedremo come andrà a finire questa vicenda che non è comunque esattamente come è descritta probabilmente o come sappiamo fin qui però ecco poi a volte bisogna anche lasciare in pace questa gente e lasciare far sì che si spengano i riflettori e possano gestire ognuno la propria vita al meglio possibile senza che poi ci siano tutti i guardoni che stanno lì ad ascoltare e a guardare quello che succede il virus e qui apriamo la pagina della pandemia il virus arretra in generale in tutta Italia però la questione sappiamo in provincia di Pesorubino non è esattamente così crollano le vittime eppure l'indice RT declassa le regioni molte infatti di queste regioni rischiano di passare di nuovo in arancione ovviamente è una corsa adesso per modificare questi parametri che a questo punto sono obsoleti sono vecchi vanno rivisti Costa dice va inserito il numero di vaccinazioni ora questo è importante perché chiaramente diciamocelo con tutta franchezza non ci si può più permettere una nuova chiusura non ci si può permettere neanche a sognarlo lontanamente di nuovo un ritorno in zona arancione perché sarebbe davvero la fine la fine per tante attività commerciali la fine per tante famiglie che con appunto il commercio campano vivono non essendo non essendo come dire dipendenti pubblici e quindi non avendo uno stipendio garantito allora ricoveri nei parametri ma non accadeva questo da mesi questo è il Corriere Adriatico oggi intanto si visualizzeranno si studieranno i dati relativi ai comuni in regione la valutazione dei contagi per decidere le misure da adottare preoccupa come dicevamo vedete la provincia di Pesero che ha registrato un aumento di casi e su questo bisognerà appunto vedere adesso in queste prossime ore intanto l'Europa scarica AstraZeneca però Pfizer inizia a scarseggiare l'Unione Europea non rinnova il contratto per il siero di Oxford Campania e Lazio esauriscono gli slot per il vaccino americano nel secondo trimestre consegnate 70 milioni di fiale contro le 180 milioni promesse dal colosso anglo-svedese e Bruxelles ha deciso di puntare sull'antidoto americano anche per fronteggiare le varianti poi c'è questa notizia che arriva da massa e riguarda un errore che è stato fatto un errore in sede di vaccinazione sei dosi iniettate per sbaglio ad una ragazza ora chiaro non è che hanno fatto sei punture diverse hanno al posto di separare la fiala in sei dosi gliel'hanno fatta tutta intera e quindi capite che sono sei dosi tutte inoculate nella stessa persona con la stessa siringa tant'è che i test quelli che fanno solitamente che fanno le case farmaceutiche in questo caso erano come sovradosaggio il test arrivava a quattro qui addirittura siamo a sei quindi adesso la ragazza che comunque sta bene è stata portata in ospedale è sotto strettissima osservazione questa ragazza ha 23 anni purtroppo hanno sbagliato le hanno iniettato tutta la fiala di vaccino Pfizer tutta è successo ieri mattina all'ospedale di Massa lei non si è accorta di niente però quando hanno capito che qualcuno aveva sbagliato attorno a lei è per questo che si è accorto che si è accorta questa ragazza che c'era qualcosa che non andava non tanto perché sentiva qualcosa dentro di sé ma attorno a sé tutti erano in allarme le condizioni comunque ieri sera erano tranquille la mamma della giovane dice speriamo che non abbia effetti collaterali gravi in futuro carano i contagi invece in Val Cesano Serra è il comune covid free screening affrontone un bimbo positivo e la sua classe va in quarantena ma potremmo dire anche qui scene di ordinaria pandemia sotto il sindaco di Fosa incrocia le dita per l'avventura di Carboni in bocca al lupo di Sorcinelli il sindaco di San Costanzo per il ciclista in gara al giro d'Italia di cui vi abbiamo parlato poi l'intervista invece che vi segnalo a pagina 5 del Corriere Adriatico di oggi è a Massimo Maggi che è segretario regionale della Federazione Medici di Medicina Generale il quale Maggi risponde su quali sono i postumi i sintomi per chi ha già preso il covid 19 sintomi che durano da 12 settimane ma fino a 6 mesi quindi è davvero tanto la sindrome la sindrome post covid appunto arriva fino a 6 mesi ci sono delle linee guida che interessano si interessano di gestire queste situazioni parlano di una necessità di consulenza per il paziente con contatti frequenti per cercare di capire quali sono le condizioni e di uso di farmaci specifici perché non esistono di specifici per questa fase cioè per chi ha avuto il covid non ci sono dei farmaci che uno può prendere da prescrivere lei ha avuto il covid bene allora prenda adesso questi farmaci per il decorso eccetera eccetera non esistono e quindi si va un po' così a seconda di quella che è l'intuito la scienza la letteratura medica un po' di cose messi insieme si cerca di portare a casa un risultato se la regione non torna indietro invece siamo sulla pagina di Fano del Corriere il progetto della ciclovia lo realizziamo da soli fanesi contro accanto scusate accanto al comitato dopo dieci anni ripuliti 300 metri di binari insomma ci sono sono questi irriducibili che tornano alla carica e non non ne vogliono sapere di abbandonare questa questa ferrovia ormai dismessa da tanti tanti decenni un ritorno del treno a pochi metri dalle case è una follia torniamo ai passaggi a livello si domanda qualcuno chiaramente insomma c'è chi è favorevole chi è contrario ma comunque fatto sta che è un progetto che ancora fa discutere il biodicestore palla ora la conferenza dei servizi raccolta di firme tra residenti di barchi mondavio e piaggio e qui vedete michele tomasetti andrea mei anna maria in cristina che raccolgono le firme contro l'impianto che ha raggiunto quota mille quindi insomma la gente non vuole questo biodigestore e la terra roveresche biancani difende la ciclabile metro per metro manifestazione a cucurano di fano con il consigliere regionale del pd che ha ideato un percorso lungo la ferrovia fano urbino e poi comitato contro il biodigestore raccoglie 1100 firme con tanto di richiesta danni preventiva malore per panzieri la città di pesero con il fiato sospeso l'ec presidente Aspes molto noto è ricoverato da ieri in stroke unit per una emorragia cerebrale si è sentito male durante un pranzo intanto il bollettino covid di ieri altri 250 positivi il numero più alto qui in provincia di pesero e urbino over 60 oggi vaccini per 700 ci sarà astrazenica e forse anche johnson che si somministra con una sola inoculazione non c'è bisogno del richiamo pesero provincia curva maledetta domani l'addio a manuel la fidanzata martina scrive un posto ti amerò per sempre funerali si svolgeranno alla chiesa parrocchiale di villa san martino parliamo di manuel berti che avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 20 di giugno a sinistra invece la curva dove è uscito di strada con se non si vede male non vedo male la motocicletta appunto che è finita sotto il guardrail la tragedia è avvenuta sui tornanti del passo di bocca tra baria due pitbull azzanano un'allevatrice ferita anche una passante che è corsa ad aiutare la donna finita a terra con un braccio nella bocca di questi cani una levatrice di pitbull di 39 anni di mercatino conca che è stata azzannata al braccio da due suoi cani che stavano litigando è accaduto ieri mattina intorno alle nove lei cercava di dividerli ma è diventata a sua volta l'obiettivo dell'attacco venendo travolta e dunque gettata a terra commorsi ad un braccio sul posto il 118 i vigili del fuoco ma anche i carabinieri si frattura la caviglia al furlo subito soccorso una brutta esperienza per un settantenne che non aveva calzature adatte al terreno impervio in cui si era avventurato e dunque si è fatto male intorno a mezzogiorno il soccorso alpino e speleologico è stato allertato per questo incidente è un turista di falconara marittima di 70 anni che insieme alla famiglia aveva deciso di trascorrere la giornata in uno dei posti più belli del nostro territorio il pilota Tonino Benelli l'agenda diventa un film partono oggi le riprese all'interno della casa dell'ultimo rampolo della famiglia la pellicola diretta da Marta Minucci e prodotta da Pisus tra gli attori c'è anche Neri Marco Re andiamo a vedere adesso l'ultima pagina penso siamo in fondo alla in fondo alla rassegna stampa code posteggi introvabili i cantieri le multe arrivano con il coprifuoco quattro contravvenzioni anti-covid dei carabinieri passarella out interrotta la passeggiata al porto e poi c'è questa notizia invece sempre dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico immaginate la scena due persone un uomo una donna che hanno un momento di intimità di effusioni sul Moscone quindi diciamo in mezzo al mare e a un certo punto un rumore arriva a chi non era un Moscone una zanzara era un drone uno di quegli aggeggi con tante eliche che volano con le telecamere attaccate che servono per fare le riprese aeree e quindi la coppia che si era appartata sulla spiaggia qui non era in mezzo al mare era sul Moscone ma sulla spiaggia la coppia che si era appartata sulla spiaggia a un certo punto è stata ripresa dal bagnino che però stava girando semplicemente un video i due innamorati non sono assolutamente riconoscibili perché la ripresa aerea era piuttosto distante però si scorgono solo queste due persone in lontananza il bagnino racconta che stava girando un video come fa spesso nel tempo libero ha visto la coppia indaffarata sdraiata sopra il Moscone quando è passato il drone si sono accorti perché si sono alzati e poi sono andati via va beh chiudiamo con quest'altra pagina però del carriero da Senigallia troppi sull'autobus arrivano i carabinieri sono intervenuti per far scendere delle persone dopo la chiamata dell'autista anche quattro multe per il coprifuoco ok noi ci fermiamo qui Riccardo chiedo il tuo aiuto per la programmazione di stasera mi pare che stasera abbiamo oltre al telegiornale il sindaco di Fossumbrone Gabriele Bonci giusto? confermi perfetto poi abbiamo come sempre alle 15 il rosario della cappellina di Fano TV e poi alle 18 invece l'altro appuntamento con il rosario quello internazionale ieri da Loreto oggi torniamo non mi ricordo dove in Irlanda in Irlanda in Irlanda ecco siamo in Irlanda quindi appuntamento alle ore 18 20 e 30 il TG occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti